Musica Siamo a Vitorchiano a visitare la mostra a mercato artigianale dell'associazione Apurimac, organizzata dal gruppo Ave Amici di Padre Ettore. Qual è il senso della mostra a mercato della Apurimac? La mostra a mercato artigianale dell'Apurimac sostiene iniziative umanitarie sulle ande del Perù. La missione è stata fondata 50 anni fa da Padre Ettore Salimbeni. Cosa possiamo trovare all'interno della mostra? All'interno della mostra troviamo manufatti peruviani come dipinti, sculture, maglieria e i famosi presevi peruviani, tutti rigorosamente prodotti a mano dagli artigiani e dagli studenti delle scuole d'arte peruviane. Cosa propongono il gruppo Apurimac e il gruppo Ave? Allora, l'associazione Apurimac si occupa dello sviluppo della formazione, dell'educazione e della salute in Italia, in Kenya e in Perù nella Apurimac. E il gruppo Ave? Il gruppo Ave si compone di collaboratori che continuano l'attività di Padre Ettore Salimbeni a Vitorchiano con risorse umane e materiali. Saluto a tutti, auguri a tutti quanti. Grazie di questa... E voglio dare un bacetto a mia amore. E voglio dare un bacetto a mia amore.